E ancora la toponomastica dei sentieri, il ministro Fitto ha ribadito la questione, va risolta entro la fine del mese. Vediamo. Ripristinare la bilinguità nella denominazione dei sentieri, parola di ministro. Lo statuto che garantisce il bilinguismo in materia di toponomastica va rispettato. Bolzano si trova in Italia e il problema della mancata indicazione dei cartelli in lingua italiana assume degli aspetti incomprensibili. Sono le parole del ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto in risposta al governatore altoategino Dornwalder. Il rispetto del bilinguismo nella cartelonistica segnalettica apposta sui sentieri di montagna, sottolinea ancora il ministro Fitto, costituisce un problema di cui si discute ormai da troppo tempo. L'Alpenverein Südtirol, quando effettua interventi per la segnalazione dei sentieri alpini, assume la veste di concessionario di servizio di pubblico interesse e deve osservare gli obblighi imposti in applicazione del principio indicato, precisa ancora il ministro. La provincia, conclude Fitto, è tenuta a sua volta ad accertare il regolare svolgimento dell'attività dell'associazione in questo senso. Per questo ho invitato il presidente Dornwalder, ha detto Fitto, a darmi notizie entro questo mese di giugno sulle iniziative assunte per risolvere il problema.